Ma non ci credo! Ma non ci credo! Ma c'è di nuovo Gini! Sono ritornato sul canale! Eh, Gimbi da Stapan! Oggi, come ho promesso un po' di tempo fa, siamo tornati su questo... L'ho promesso io! Se hanno raggiunto mi piace! Eh, sono felice! Infatti siamo tornati! Eh, allora... Non ricordo le cose! Ah, allora, io non mi ricordo quasi niente di sta modalità! Allora, dovevi prendere cose, fare pesi e diventare forte! Ma mamma mia, non ho presi tre! Massimo tre, non posso prendere! Ma guarda io cosa ho preso qua! Ma io mi ricordo che avevamo le zone! Eh, sì, e le zone sono di qua, dobbiamo sentire... Io ero nella terza, io ero nella terza! Come eri nella terza? Sì, tu anche eri nella terza! Ah, sì, eravamo arrivati, sì, al cibo, vero? Allora, continuiamolo! Allora, andiamo alla terza! Andiamo? Allora... Bisogna essere molto forti per superare sta zona! Sì, però, ti ho detto, andiamo all'altra zona! Guarda, io sto facendo la terza, perché io sono arrivato qua! Ok, anche io, spostato qua! Sono arrivato alla terza, quella del cibo, giusto? Sì, food... Ah, sì! Ecco, ti vedo! Ok! Sì, io prendo cinque soda! Guarda, il sushi è troppo pesante, apprezzami! Guarda io invece cosa sto prendendo, guarda, ma che sono forte! De cinque succhi, madonna! Ah, nonna mia, ci sono degli enormi! C'è gente enorme! Guarda sopra di te! Eh, sì, ma noi dobbiamo diventare così, eh! Eh, vabbè, buonanotte! Guarda, guarda, ha cinque tacchini! Noi non cosa vogliamo, guarda, è... Il sushi è il pollo e il tacchino, guarda! Allora, noi dobbiamo... Allora, in questo video... Ci siamo sordati, naturalmente, di questa modalità, noi! Allora, in questo video noi dobbiamo arrivare almeno a saper spostare tre sushi! Cioè, tre sushi, buono, no! Allora, trecento! Non so, le sedie, mamma! Allora, vado a fare tanti pesi! Allora, tu vorresti rifare questa modalità? Non lo so! Forse! Se arriviamo a... 15 mi piace! Beh, un po'... Va bene! Un nuovo video su questa modalità! Vai! Vai! Non d'amore! No, facciamo così! Devo arrivare ai... 10 mi piace! No, 15! 10! L'altra volta... L'altra volta... L'altra volta... Ma se va bene il sushi! Vedi! Io sono a massi dei nubi! Ma... Aspetta, tu quanti pesi hai? 216! Allora, tu rimani fermo! Ti ricordo all'inizio del video cosa ti ho detto! Dobbiamo stare insieme! Diventiamo forti insieme! Ma poi per spostare... Tipo... Che cosa è una lastomiglia? Ma tu cosa sei? Certo! Io sono... Io sono... Io il sushi ce la faccio! Io sono Massive Nub! Io anche! Ah, volo! Io so portare solo un sushi! Io due! Come fai? Come fai? Come sei da portarne due? Oh, 206! 206! Sì! No, aspetta un momento... Non esiste a 200... Ma sono a 216! Aspetta, faccio altri! Guarda! Due sushi! Ma io sono... Ma quanti pesi hai? 206! Ah, 200... Ma se io sono a 230... Come faccio a portare... Ah, no... Ah, ok! Ce la faccio! Portare! Sushi! Sushi! Ma no, no! Ma no! Ma sì! Questo sushi come si chiama? Rond! Come si chiama? Boh! Ma... Ma dove si compravano i pettini? Io me lo so scordato! Ah, qua vai! Io mi ricordo che ti vuoi... Dove c'è la zappa? Qua, qua! Tu viste? Ah, sì! L'inz... Ma le patatine l'ho trovata! Io pure le patatine normali! Me le seleziono qua! Come si... C'è la patatina! Ci stiamo andando! Allora... Quanto è il giro? Aspetta, voglio portare due sushi! Ma dove si guardava l'energia che danno? Dove si vede l'energia che danno? Ma non lo ricordo! Aspetta, e... Tu guardi dove c'è scritto... Premi, tipo, qualche petta che vuoi... E sotto c'è scritto... Energy, energy... E poi ti dice quanto ne ho! Ah, sì! Ok, allora... Questo lo tolgo... L'equipaggio è questo... Ok, perfetto! Prendi l'energia... E... Guarda! Forse riesco a portare... No, non ci riesco... Come ci fai caso... Come? No, 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 no... Questo è barato... È barato... No, no, no... Tu bari! Non ci parlo mai più con te! Ma non ci parlo mai più con te! Tu dormi per fare i pesi? Guarda, guarda io con te! Guarda io con te! Con te! Io sto metto 146! E riesco a portarne 4! Questa cosa non è normale... Ma io ce la faccio a portare... Le patatine! Le sono più pesate! Oh, allora ti ho detto che dobbiamo andare insieme... No, no... È semplicissimo portare le patatine! Poi, provaci! Allora... Ti ho detto che dobbiamo crescere insieme... Tu lo stai facendo? Lo so, però è una cosa... Provo a portare le patatine che è solo leggera... Io ce la faccio! Sì, ma facciamo così... Adesso... 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 Le patatine... Cioè... Ma ci riesco anche io! Ma io tu me la sto portando! Guarda, guarda... Mamma mia! Allora... Adesso... No! Non portare più niente! Chi è? Vieni! Madonna mia! Allora farei pesi! Eh, anche io sto andando a fare pesi! Tu guarda, mi metto che faccio i pesi! Andiamo qui da qua di giù! Vediamo! Io sono a media minuto! Mega! Eh, infatti adesso ti fermi qui a guardare! Eh? No! Sì! È brutto guardare! Madonna mia, quanto sono grandi quelli! 8 funzionanti! Ah, ma cos'è? Guarda! Guarda! Mi attacco pure nelle patatine! Io sono... Io sono... E... 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 Parolacce! Dove... No! 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 Ora iniziano le parolacce! No! Se sono poter... Se sono poter... Se sono poter... Devo saper portare la... La torta della nonna! No! 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 Tante parolacce! Tipo come... Non si dicono le parolacce di Dio! Eh, capì! Non l'hanno insegnato! Adesso ne dico una! No! 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 E... E... Anche i minori! Anche il punto non devi guardare! Eh, ma tu mi obblighi! Tu dormi! Guardare già hai! Ora, un attio! Mi sto facendo... Mi sto andando a fare i pesi! Guarda! No! Spera! Vediamo se riesco a portare la... La... Vediamo! Tanto non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio persino! Vediamo quanto... Non ce la faccio! Guarda! Anche io sono mega new! Io sono mega new lol! Eh, se... E non andare mai più avanti che non ti parlo mai più! Ti mangio! Brutto Gimmy Tostapane! Se cosa? Gimmy Tostapane ti do... Ti do un... Ti do... Do un mors alla tua... Alla... Alla tua fetta di pane! Anche io non sono più... Fatto di pane! Ahah! Come? Tu sei Gimmy Tostapane! Tu... Il cuore! Polmoni! Sei fatto tu... Sei una fetta di pane! Sono fatto di pane! Sono fatto di carne io! No! Perché sono nero! No, no! Tu sei fatto di pane! Eh, brutto Gimmy Tostapane! Eh, il pane non ci mangio! Questo è... È integrale questo pane! Ah, ok! E non ti grazie! Il pane è integrale me lo mangio! Oh, guarda! Tu... Stavo dicendo... Ma vogliamo... Tu mangi che riesco a portare la torta... ...della monno! Ti mangi! Ma tu stai continuando ad avanzare! No! Eh, sì! No! Ho visto che si trumina di energia! No, no! Tu stai continuando ad avanzare! Vedo! Va bene! Mi copri bene! Va bene! Ho trovato un fanacchino! È bello! Guarda cosa sto portando! Guarda! Guarda cosa porto! Cosa porti? Tan! Tan! Se porto il fanacchino sono troppo poderoso io! Oh, sto qua e riesci a spostare la... 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 Il fanacchino si ho portato! Guarda! Guardami! Ok! E fu da qui che Gimiotto Stapano non fu mai più nei video! No! No! Quando tu... Tanto lo dici solo per film! No! Lo dico vero! Non ci crede nessuno! Dario che fine ha fatto secondo te? Ci manano molto male! Dario secondo te che fine ha fatto... No vabbè raga non pensate che Dario non c'è nei video perché io gli ho detto di non fare più video con me! Ci manano molto male! Ognuno vuoi! Oggi è il giorno in cui ritorni e il giorno... E... Ascolta! Oggi è il giorno in cui Gimiotto Stapano torno ma pure se ne andò di nuovo! No! No! Vorresti fare così ma non mi puoi! No! Posso io! È impossibile! È impossibile! Vediamo se sai portare qui la torta! Bravo! Sai portare la torta! Eh! Io sono potentissima! Lo saprei! Guarda! Ho guardato una torta! Io due! Io due! Ma guarda! Adesso porto il tacchino! Guarda! Guarda! lunedì! Ma ora ne porto due! Due tacchino! Una volta! Guarda quanto sono poteroso! Oh! Due tacchini! Ti metto sta panne... eh ti ficco dentro un tacchino eh 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 non puoi è impossibile non mangio almeno allora ma di un tacchino vivo eh tacchino vivo non esistono i tacchini che malattia ma che problemi ha ma certo eh io non ho mai visto uno cosa ne visti guarda adesso porto adesso porto tre patatine fritte e un tacchino guarda vediamo se riesco a portare il tacchino guarda guarda no dico tutti insieme scema energia o i pesi allora di pesi ho 343 e di energia e di energia non lo so perché mi sto facendo i pesi ti ha scritto in alto di destra no lo so ma adesso si diminuiscono io io sono a ascolta i miei pesi 385 pesi va bene va bene va bene eh sono io quello poderoso io domani finirò di finire il principio praticamente no no guarda guarda che sblocca la nuova zona guarda guarda vediamo ahhh ho sbloccato la nuova zona alla faccia tua alla faccia tua in realtà la tua fetta di pane io sto venendo alla tua fetta di pane io ho sbloccato la nuova zona della sto venendo io ho 421 pesi oh io da questa zona me ne vado mai più perché la sala videogiochi che sei qua tanto ora vengo oh tu rimani là ok no a piangere a un angolino perché mi hai offeso quindi vattene per sempre ma è leggerissimo ne sto portando 3 idiota ma dirlo prima si vede scemo aspetta vediamo vediamo se io sopportare questo qua ecco ok ma non ne sopportare perchè non ne sopportaremo dai non ne sopportare vediamo se ci faccio per me ok che ci faccio guarda che arrivo a quattro eh guarda eh si quanti pesi hai quanti pesi hai eh ora te lo faccio guarda ascolta ascolta guarda guarda che gli sto a fare guarda 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 un po' io ho quattrocento quaranta due pesi va bene va bene eh vedi i cosi di calcio scemo e invece questo qui questo qui che porto i questo qua è quello lì che si ci mettono le mani e poi si si gioca con quella pallina lì guarda molto bello con le ah che ho capito ho capito ho capito ho capito io ho capito come dire quanti pesi hai tu? quattrocento quaranta due bravo bravo io sono quasi cinquecento ma ti odio eh 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 mi sto patenziando per rompermi in questa modalità no 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 coca ha scoperto che giuseppe già giocava in questa modalità ed era alla zona più avanti di questa vero? si che stifoso stifoso cosa fa? oh cosa stai facendo? no 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 per niente proprio no adesso io ti supero guarda ma troppo potente adesso io ti ammazzo guarda ma vabbè io provo a portare quella qui la tavola cos'è? tipo c'è presente le camline tipo il tavolo quando la piliardo che sto portando io? guarda quelle palline al centro che tipo tu hai le pacchette per spostarle e metterle in un punto si sperimenti eh quello io quello ma quanto è che dura sui 20 minuti? quanto è? no no 17 minuti sì comunque io sono a 500 di pesi 503 503 503 ok allora finisco queste cose e vado a pesare no dai no ah pesante ma tu sei specie noodle no strong noodle basta basta ora divento super 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 maestro sembra che dici un'altra cosa 1 2 3 4 5 madonna mia già ho superato i 520 ma va ma 540 sono eh ecco 543 ma questa print invece di strano un gioco di no ma io ti ucciderò guarda che porto questo qua guarda che sono potente guarda vabbè guarda anch'io non so portare guarda io ho fatto la cosa più forte della tua esatto io guarda non so portare anche semplicemente guarda io sto portando la cosa più potente non è vero non è vero no ora ci sta andando guarda io ho la porto nooo ma mi è nato un pisellino ma cos'è schifo guarda io sono più veloce questa coera di troppo ma io ce la faccio a prendere questo ma che non so cosa no bu il no non ce la faccio guarda me ne sto diventando potentissima vabbè io prima che mi compro dei pettini ma che figa ma che cosa mi lascio ma no questo questo ce lo schifo questo è più buono ok allora questo da 400 e questo 120 ok sono stato disconnesso sono stato disconnesso sono stato disconnesso come ho capito eh vabbè no vabbè tanto adesso lo terminiamo ragazzi per oggi è tutto ciao 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 aiuto mi si sta rompendo no vabbè